Salve a tutti ragazzi sono Zomibest e sono qui insieme a a chi c'è davvero in questo momento? Io? E tu si tu chi sei? Io sono Dino Tu sei Dino e poi insieme a tutti loro in generale salutate un saluto collettivo Ciao 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 Dopo questa introduzione da Stolti volevo fare la premessa che non l'abbiamo fatto su Ghost Per il semplice motivo che in quel gioco di merda, sì perché è un gioco del cazzo, non ci gioca nessuno E quindi abbiamo dovuto farlo su Black Ops 2 al momento e abbiamo trovato i giocatori che convintissimi sono qui insieme a noi Caro Dino io farei il solito test audio e poi lascerei un po' fare una prova a te Così vediamo un po' come te la, come te la cavi da, da ordinatore Zombie dice abbassatevi Per la prima volta Checco Checco Fammi controllare se ti asso Non lo so, zombie dice abbassatevi Stava scrivendo per questo Ok zombie dice rialzatevi Checco Sei lento, sei lento, ok, allora Checco per favore Per favore zombie dice vieni qui da me, vieni fuori dalla fila, bravo, bravo Abbassati un attimo, abbassati un attimo No Abbassati Bene Ok Bene Dino Lascio la parola a te Dovrei dire Dino dice Accoltellate No Lo sai che è una brutta cosa questa Si tratta di suicidio Devi ammazzare qualcuno Guarda che sto controllando questi qua che non hanno coltellato Ah ma una volta o più? No basta una volta Una, una, una Basta una, basta una Quello si tratta di suicidio Eh Attentare a coltellare i compagni Eh sì appunto per quello che te l'ho detto Avete tutti quanti il tasto per sporgervi? Sì No Tutti? Sì No Probabile che qualcuno ce l'abbia Controller Perché non giochi da pro eh Come vuoi Eh infatti Zombie Un install Bene tu intanto Intanto pensa Zombie dice Zombie no no Io ho il controller Tu 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 Caro 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 Cyborg Perché non sei in fila insieme agli altri? Eh scusate Ecco Zombie dice Seguitemi Ah Zombie dice Formate una Fila sulle scale Chiunque Non è in fila E non è Sulla parte bianca Delle scale verrà ucciso Quindi muovetevi Formate una fila Dai venite Non ha avuto gli effetti sferati Questa Chiunque mi blocca Adesso muore Park è fuori Ok Ok Oh shit Sin Sei un po' fuori eh Dalla Cyborg è fuori Io sono bloccato Non ci stanno Chi non ci sta mi dispiace Sin Sei sfortunato Peccato per te Oh no Ti voglio dare una seconda possibilità Zombie dice Per favore Vai laggiù in quell'angolino In fondo Bravo Io sono bloccato Tu dall'altro lato Come ti chiami? Non saltare O saltare Cyborg Zombie dice Vai anche tu Nell'angolino Di l'arpe Fatelo passare Fatelo passare Non ti ho detto Di farlo passare Non ti ho detto Di farlo passare O meglio Non ho detto Zombie dice Adesso Ora che cosa Ce l'ho detto Vai andate 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 E anche voi Tutti quelli sulle scale Vadano Bravi bravi Dino Tieni l'occupati Solo uno dei di voi due Sopravviverà a questa sfida Oh my god Cosa avrò in mente Non lo so nemmeno io Allora Zombie dice Cyborg per favore Da questo lato qua Bravo La 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 Zombie dice Attaccatevi Sin Vai No Sin Puoi tornare nel gruppo No Non puoi Tra parenti Quell'altro la Mi aveva scoperto Eh vabbè Ragazzi Anche se Mi è andato Do una parola a te Dino Correte E saltate dentro Quella piscina Laggiù in fondo Quella lì piccolina Guardalo Dino Corri 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 Dino dice Correte nella piscina Laggiù in fondo E saltateci dentro Guardalo Dino che sexy Perché sono dentro di tutti Infatti Tutti Si si inquadrando Ah questa piscina qua Mmm Avete scelto Questa è una sauna eh E' una sauna Una sauna Zombie Guardi Dino dice Sdraiati Vi dentro Notare come l'acqua qua Oltre tutto È una macca bloccata Oltre tutto Può sdraiarti Sdraiare Non si può sdraiare Più di tanto Si Così penso sia al massimo Vediamo Eh si Dino dice Io e zombie Ci mettiamo Nel garage Delle Lamborghini E conteremo Trenta secondi Trenta secondi Dal nostro via In questi trenta secondi Voi dovete Nascondervi Più che potete Esatto Esattamente Noi vi troviamo Cioè Vi ammazziamo Cioè Non vi ammazziamo Però Gli ultimi due Gli ultimi sei I primi due Gli ammazziamo Gli altri possono Gli altri sovraggono E continuano Quindi ragazzi Per favore Iniziate pure a nascondervi Direi Zombie dice Nascondetevi Noi andiamo nel garage Noi sono morto per secondo Quindi fancusa Eh vabbè ma Tutti Tutti Non si usano gli hack Bene Sto contando Io sto contando Allora è contata Che io non c'ho Vai Neanch'io non sto contando Sto facendo a finta Di contare Tra poi Di carica Di carica Di carica Quindi Aspetta Aspetta Io lo trovo Non so se Non posso Sto 18 22 29 30 Partiamo Vai 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 E adesso I primi due Che troviamo Muoiono E uno è lui James Dov'è che Oddio Quello che ha detto Che va a paura L'ha scritto Anche ho paura E subito Lo troviamo E ne ho un altro Ragazzi Ne ho due Cazzo Oddio male Oddio male Oh me Qua si Penso io Ho pensato Ragazzi siete Fortunati Siete molto fortunati Zo mi dice Tornate nella sauna Gli altri no Gli altri resti non nascosti Perché dovevo trovare un altro E ucciderlo Per pura soddisfazione personale Perché Quindi Adesso il prossimo che trovo E ma no Lui aveva detto due Io no Quindi Per pura soddisfazione personale Frazzomo Morirà No Bene ragazzi Per favore Adesso che siete Vi siete nascosti Zombie dice Tornate nella sauna Grande sauna Nella grande sauna Per favore Tutti dentro La grande sauna Che cazzo hai in mano No Tutti dentro La grande sauna Un ordine Abbiamo un UAV Chiunque non arriva Muore Bene E sono fantasma E adesso Saprete già cosa sto per andare a fare Zombie Vi ordina di restare immobili Chi si muove è morto E vediamo chi di voi sopravvive Ragazzi sta per arrivare Io mi allontanerei Se fossi in te Dov'è Franza Mi allontanerei Sta arrivando da Tony BEST BAM No Fra se la sentiva Mi dispiace Sono rivasti In 4 Per fortuna E' morto solo uno Ho morto un fortuna Scusate Non mi posso dire una cosa Certo puoi dire quello che vuoi Se è importante Tu hai culo negli appro Per questo Per questo tipo di cose Cioè Per questo tipo di contesto Quello che hai trovato E' molto E' molto utile Per questo Sì E' molto utile Per questo zombie chase E' la cosa più utile Che potete trovare Un asino No Un asino di cemento Non c'entra Con questo gioco Ma non importa Sì Come dice Alzatevi Dino Io gli farei fare una bella prova di mira Una bella prova di mira Ok Chris Cosa hai in mente di fare Che distanza Vediamo Allora Caro Park Zo mi dice Seguimi Bravo Piazzati qua Nel punto E Spara In particolare Hai poco tempo Per sparare A La bottiglia La vedi la bottiglia Quella Sì Di vino Rovesciata No No Come no Non la vedi Controllo io Perché Che cazzo Può essere anche Che lui abbia La grafica Un po Più basso Come me In effetti Da qua non si vede un cazzo Ok ci sono due bottiglie di vino vicine In basso a destra Devi colpire Una delle due Bottiglie Ok Se le prende tutte e due Quando Eh una delle due Eh zombie dice Puoi andare Oh Prima colpo Non Ma basta sparare Prima colpo Non l'ha colpita Zombie dice Vai in acqua Fly Prendi il suo posto Sei furbo Zombie dice Fly Prendi il suo posto Ha capito tutto Stai fermo là Tu park Fly C'è ancora una bottiglia di vino In basso a destra Cerca di colpirla Con un colpo Zombie dice Vai Bene Mancata Puoi riprovare Volendo Zombie dice Puoi riprovare Ma No Quella Eh non l'hai presa 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 Ti stai sparando vicino Ma non la stai colpendo Adesso vado a far la prova Per vedere se sarebbe sposa Magari è una bottiglia indistruttibile Non era indistruttibile Mio caro Fly Tu hai sbagliato I primi due colpi Mi dispiace Se vuol dire Un'ultima Un'ultima parola Perché ha sparato Quella rovesciata Zombie Hai capito Tu hai sparato Quella rovesciata Sì Eh Controlliamo Scusa È tarocca Aspetta No non è tarocca Neanche quella Io Comunque Io Ah io la vedo rotta Ma va bene Eh l'ho appena rotta io Ah ok Molto bene Eh va bene Adesso direi che Sono rimasti in tre Li farei fare Come abbiamo fatto In un episodio Un po' di tempo fa Una gara di nuoto Quindi zombie dice Posizionatevi tutti qua giù Per favore In una fila Vai Franz Dino dice parchesi Sapete che vincere E adesso Quello che dovrete fare È molto semplice Raggiungere il lato In fondo Della Della vasca Correndo il più velocemente possibile E Chi arriva per ultimo Mi dice vai Andate partite 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 Vai Franz Prima posizione Abbiamo parco Ovviamente Tony Tony passa prima Attenzione Questo qua è l'ultimo Franz 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 Dino Non è ucciso Nessuno ancora Quindi Dino Ah non è Maiore Lui di fare un bel trick Guarda Guarda vai 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 Ok non becare Nessun altro Ben fail Congratulazioni Disturbo radar Dino Lascio te Uno dei due Deve sopravvivere Quindi Procedere Tiro un tomo Cacaso Guarda io tiro la fumosa Tre Due Uno Vai Posso andare Vai vai A caso Ok io volevo girare il torno Però va bene Allora Allora Tiro io la fumogena E adesso Tiro il tomo A caso Ok Tiro Sennò sparo a te Oddio Oh continuando così qualcuno lo beccherò Potresti anche beccar Dino Lo so Vai 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 Abbiamo visto Oddio Oddio Chi ho beccato con la palla Chi ho beccato con la palla Vabbè Io non ho visto Tutti zitti Nessun ha visto No io non ho visto Secondo me possiamo stare qua Tutto giorno Non ne beccheremo mai uno Occhio Ah dalla sua Dino Oh Park Bello 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 Tony Best Allora ragazzi Dino Il vincitore è No Tony Best Io appena ho letto il suo nome Sapevo che avrebbe vinto Insomma Ecco io Io lo sapevo Io lo sapevo Allora Come sempre Facciamo una Tutti contro tutti Adesso Spargetevi per la mappa Tutti e poi Chi ci sono Quindi vince sempre zombie Oh oh Mi attacco sempre Vai Tony Best Ce la puoi fare Oddio Tony Best Lui è avvantaggiato Sfila tra me Tony Best Sono vicini Sono vicini Sono vicini Dov'è bastardo Dov'è 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 vieni fuori Vieni fuori Sono vicini Merda Aspetta Sono vicini Sono vicini Sono vicini Zombie trick Trick è 360 Ok ho finito Ecco basta anche un 360 Ma non lo farò mai un 360 Quello executioner Come no Se sei vicino Non lo sapevo È dietro di te Ma io lo sento Ma io lo sento Ho paura Ho paura Perché lo sento Tu lo senti Con il progetti Che è un microfono È la davanti Ho paura perché io lo sento Ma È in money È in money Spari finali Alli spari finali Alli spari finali Alli spari finali Però io avevo fatto Un 360 Che lui non ha fatto Quindi Non è vero No io avevo fatto Un 360 Era un 360 Poi vedremo Nel movie best Chiudiamo qua Quest'episodio Ringrazio Dinos E tutti i partecipanti Su ghost Ripeto È impossibile farlo Perché non ci gioca un cane E fanno anche bene Secondo me Quindi Chiudiamo qui Il video Grazie a tutti Lasciate un bel like Condividete E ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao 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 Ciao